La laboriosa vecchiaia di Tiziano si riassume magistralmente in uno dei suoi massimi capolavori dell'ultimo periodo e la deposizione di Cristo che consegna nel 1559 a Filippo II verrà posta nel 1574 nella chiesa vecchia dell'Escorial il luogo della sepoltura dell'imperatore Carlo V è un'opera struggente magistrale in cui si riassume un'intera carriera tutto il senso dell'opera è riassunto in un dettaglio il cielo affocato, arrossato, ingrigito dalle tenebre che prende carne e sangue nell'immagine della Maddalena che letteralmente si getta sul sepolcro di Cristo lì sono i dolenti, vediamo però anche un Giuseppe d'Arimatia nelle vesti rosse foderate di raso giallo e una Madonna avvolta nel manto azzurro che quasi le cancella l'espressione poi Nicodemo che ha le sembianze, le fattezze dell'anziano Tiziano sorregge il corpo di un Cristo, un Cristo che nel gesto del braccio diventerà scuola per Caravaggio per tutta la pittura successiva da Rubens a Rembrandt ma anche a David ai grandi capolavori del romanticismo francese è un'opera in cui le masse cromatiche della giovinezza tornano a risplendere con un significato nuovo e assolutamente tragico il sepolcro di Cristo dove vediamo su un lato il sacrificio di Isacco dall'altro Caino e Abele a raccontarci i martiri biblici prima della morte di Cristo si riassume anche nella tabella posta alla base del sepolcro con la firma Tizianus Veccellius eques Cesareus, sottolinea il suo status, lo status di famiglio del grande imperatore in quest'opera che diviene una summa esemplare di un secolo d'arte che diventerà l'opera di scuola per le generazioni successive abbiamo decine di copie fatte dai grandissimi maestri su tutti Turner di un dipinto che ha influenzato come pochi altri la storia dell'arte successiva avendo la capacità di assemblare colore, luce e il sentimento profondo della religione Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti